Ma secondo te questa cosa dell'arte contemporanea, la leggenda, gli piace? Un cast eccezionale alla scoperta della più grande opera d'arte. Devo essere sincero, la trama del film non lo so. 14 anni di scafezza. La trama di questo film, vuol sapere che... Ma iatevi. È un cappolo d'oro. Da maggio al cinema. Da maggio al cinema.